Replica Ballando con le stelle 2018 Ultima puntata, quando e dove vederla Informazioni su quando e dove rivedere la replica dellultima puntata di oggi 19 maggio di Ballando con le stelle 2018 in onda su Rai 1 Oggi, sabato 19 maggio, andrà in onda la finale di Ballando con le stelle 2018, il talent del sabato sera di Rai 1 condotto da Millie Carlucci. A seguire le informazioni su quando e dove vedere vedere la replica dellultima puntata. Le coppie finaliste delledizione di questanno sono Giaro Gerratana, Lucrezia Lando, Giovanni Ciacci, Raimondo Todaro, Jessica Notaro, Stefano Oradei, Francisco Porcella, Anastasia Cusmina, Cesare Bocci, Alessandra Tripoli, Natalia Guetta, Simone Di Pasquale. Tra le favorite per il successo finale, la Notaro è anche la concorrente più amata dal pubblico in studio. Confermata la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Dove vedere la replica della finale di Ballando con le stelle 2018. La replica dellultima puntata di Ballando con le stelle 2018 sarà resa disponibile a poche ore dal termine della finale di stasera, non più tardi della mattina di domenica 20 gennaio. Il sito di riferimento era iPlay. Una volta nella home page, lutente deve digitare la parola chiave Ballando con le stelle nellapposito campo di ricerca che compare cliccando sullicona della lente d'ingrandimento posizionata in alto a destra. Si viene rimandati alla sezione ufficiale del programma della Carlucci, al cui interno compaiono varie sezioni, tra cui quelle dedicate alle coppie e ai ballerini per una notte. La visione di Rayplay è disponibile sia da PC, collegandosi al sito Rayplay. It, sia da smartphone e tablet, scaricando l'app gratuita omonima presente negli store ufficiali dei dispositivi Android e iOS. L'utilizzo dell'applicazione è consentito previa registrazione tramite e-mail oppure gli account social, Facebook o Twitter. Non vi è una scadenza entro la quale dover guardare la replica, il cui video verrà conservato all'interno della sezione Ballando con le stelle della categoria Programmi presente sul sito. Ballerino per una notte in occasione della finale di Ballando 2018 sarà Gina Lollobrigida, icona universale del cinema italiano ed europeo tra gli anni 50 e 60. Inoltre, si riaccenderà di nuovo la sfida degli ascolti TV con amici di Maria De Filippi. Per la puntata del talent di canale sono attesi come ospiti speciali Albano e la coppia musicale di maggior successo degli ultimi anni nel panorama italiano, composta da Fedezze e Ilunga AX. Le coppie di ballo rimaste in gara dovranno affrontarsi in sfide dirette che, man mano il gioco andrà avanti, determineranno la posizione in classifica di ciascuna di loro, fino all'elezione del vincitore. Grazie per la visione!